Ciao a tutti, io sono Alessia e oggi siamo su Roblox e Buona Festa del Santo Santissimo Salvatore! Come vedrete, oggi questa festa speciale voglio fare anch'io una mia specie di festa e come vedete mi sono messo il bustichino da mare perché oggi con il nuovo aggiornamento andremo al mare perché hanno messo il nuovo aggiornamento del mare e noi ci andremo e ve lo farò ogni poche che mettono un aggiornamento su Roblox e ve lo faccio vedere comunque questa è cadamina, non so perché non mi sia ancora caricato, ecco voglio che si... ecco la mia bella faccia è qui ok, questo è il mio nuovo pet, si chiama Pizza, è dello spio di Londra che mi piace moltissimo perché è troppo carino e poi se lo metto con questo, fa troppo ridere, è troppo bello dunque andrò con questo al mare comunque potete vedere che qui c'è l'offiut mare ed è proprio questo e l'ho messo apposta me lo sono inventato anche con la paperella e tutto c'è un negozio dove si possono comprare varie cose per il mare che vi farò vedere nel prossimo episodio se arriviamo a 3 like allora abbiamo questo coso aspetta ragazzi, prendo un attimo la matita questa cosa qua poi... oddio poi come altra cosa di mare abbiamo questi che sono i braccioli da mare poi come altra cosa da mare abbiamo questa che è una gomma e questa che è un materassino e poi questa è per reggersi in acqua e poi ci sono i miei parenti che fanno casino di là e siamo pronti ad andare oh my god che cosa ok vabbè andiamo siamo pronti per andare comunque qui alla mia destra o a sinistra alla mia sinistra vedete che c'è scritto summer sale perché sono i soldi dell'estate comunque il negozio dei giuratori è ancora aperto state tranquilli perché è stato appunto però si sta sciogliendo ok qua ci sono delle limonate io direi di prenderne un po' se il mio piccolo se il mio piccolo c'è la sete in questo caso a sete dunque io gli do una limonata ma ma ok ok va bene forse è un po' troppo ok mi si è baggato il server pasta cavolo mi si è baggato il server io ho solo due limonate ok mercati vale lui è un mercat non so cosa sia un mercat ma è un mercat ecco qua ma perché c'è una banana che vola ok non è normale comunque quello lì aspetta un attimo ragazzi se conoscete Roblox quello lì prima era chiuso adesso l'hanno aperto per il nuovo aggiornamento sul mare e questo è il pool party e lì sopra c'è un grandissimo sciuro però cominciamo con gli illustrati appena finisce il ponte si va allora vi faccio vedere le varie cose specche droppo pizza si si chiama così ok se mi metto i braccioli sono bianchi e sono così belli carini poi questo ecco così molto carino poi posso anche spawnare la gomma super così che è la stessa cosa solo che non ha la pinna così poi abbiamo questo materasso gigante là ok hai ok che ci si può sedere ecco così poi abbiamo questo che non si può sannare così e ti permette di nuotare meglio vedete che c'è il belaccio così e queste saranno le nostre cose ok bene poi non lo so perché ho ricevuto una cosa brutta però non ve lo faccio vedere ok andiamo volete vedermi arrampicare lì sopra secondo me allora andiamo comunque ho noto così bella 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 e in questo parco ti trovo per tutta l'eternità ve l'ho già detto perché praticamente è il parco più bello del mondo il nuovo aggiornamento di roblox è fantastico ok questo video dura anche pochino perché sono abbassato su questo e ho sbagliato strada che che schifo io sbaglio le strade degli altri e non è possibile fare così oddio ok è un po' scomodo però è l'unica via per andarci anche se è un po' scomodo stai tranquilla vieni dei soldi ok aiuto stavo credendo c'è un buco ok allora sentite i miei parenti sono ok allora prendiamo la gomma super gommi ma che cavolo ma ma che schifo ragazzi io direi oddio mamma mia direi di prendere la gomma quella normale classic cioè questa qua questa scena ma la finiamo ok se ho capito però no oddio la stiamo perdendo raga ok ci siamo ma 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 io non lo capisco questa cosa vai gommone super master 300.000 piano 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 fermo 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 vai ok stiamo andando stiamo andando tranquilli anche se questo scivolo si bagga un po' stiamo andando stiamo andando vai che andiamo vai che andiamo dai non ti fermare adesso ma si è fermata adesso per ma cos'è no 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 ecco vai ok dobbiamo un po' cambiare se l'avremmo fatto con la tavola di surf sarebbe meglio però non abbiamo 600 euro perché sennò realissimo dovremmo fare così per tutto il video ok ma ma la mia gomma e e ok e ok va va bene non penso vada bene però va bene ma 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 che cosa ma che cavolo eccola la 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 vai 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 stiamo andando eh stiamo andando anche forte wow vai 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 wiii ecco non è molto funzionale dico io eh però dai diamogli un'ultima possibilità allora prendiamo questo qua ok ma non ci sarà il passaggio segreto classico dietro a cascate no non c'è ci sono anche gli altri scivoli normali che adesso li andiamo a fare perché vi devo mostrare il parco la ciambella si bagga un sacco in acqua però devo farvi vedere anche questo scivolo e anche quello scivolo perché fanno parte del parco e io vi lo devo mostrare comunque ci sono anche quegli ombrenoni che sono invisibili no pizza non voglio lasciarlo lì vieni ma cos'è cos'è appena successo i parenti gridano aiuto ah ma che cavolo cioè non posso prendere un braccio di pizza mentre salgo wow no mi dispiace pizza addio wiiu ecco adesso prendiamo quello blu 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 allora mentre lo facciamo dobbiamo trenare la gomma questa è gomma la gomma quella di una roma è classica in mano perché poi la dobbiamo spanare ah bo 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 yeah yes ah yeah 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 yes yes ho un'idea di come fare quello scivolo piccolino blu andiamo comunque il modo di nuotare qui è bellissimo è la cosa più bella di tutto il mondo perché ho lo silestilist ok adesso poi mettiamo la gomma la gomma lo spavano qui la facciamo gomma rigu allora così no spavano vai 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 ahaha non è funzionato però è stata divertente ok adesso vi devo far vedere una cosa c'è un passaggio seguito sott'acqua ma non sotto questo acqua sotto un'altra acqua Quella della ghetta Che alcuni di voi conosceranno Dove è pizza Oddio Ok ci siamo Non voglio andarmene Però devo Dove è pizza Secondo me Se gli tiro questo si sbaglia Ma pizza Ma guardate Pizza E' lì guardate Ma Ma pizza Aspettate un po' Pizza Eccoti Ok adesso dobbiamo fare vedere il pappeto Sotto d'acqua Guardate che bello Nuotare così E' bellissimissimissima Ragazzi Sì Comunque voglio fare un altro video E Spero che vi piacciono Che vi piacciono Questi video che sto facendo in qualsiasi giorni Vai pizza Quando io corro Lui corre Quando io sto fermo Lui si alza le zampe E' troppo Carino Ciao piccolino Ok Qui dovrebbe essere Forse non è qui Nell'altro ponte Però è sempre St'acqua Qui non c'è Però è sotto L'altro ponte Infatti mi sto confondendo Penso Penso se è quello Non so se intravedete qualcosa No Non è questo E raga però Io mi sto facendo il giro Mi sto facendo il giro di tutto Aspettate che pizza sto impazzendo Qui Vedi qua Poi c'è scritto poi Grounded Che so Ok penso che sia questo il ponte Sì Ufficialmente Questa Ci mancava solo questo Ma Ma raga Non è possibile Che non c'è niente Giusto Io l'ho visto Emma l'ha visto E non c'ha Sì C'è 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 white ci ha parce A può vedere Qui c'è un passaggio segreto Sotto al ponte Oddio che bel Diana Oddio che belastica Olla ragazza Ok comunque Apriamo la porta E entriamo E' un passaggio segreto classico Ma non c'è molto dentro Solo Così Guardate queste sono le torze guardate con cui parlare è una piccola discotechina così però io sono curiosa c'è qualcosa tipo questo un passaggio passaggioso ma non posso nessuna parte ma che schifo questa è una discotechina molto bella e carina guardatemi sono bello ok va bene vedete let's go the pool party vedete i pet ne hanno bisogno un markup pool party ora ci andiamo un'altra volta al pool party per ottenere i miei soldi e poi chiudo il video non ve l'avrei dovuto dire ma chi se ne frega noi siamo youtuber per questo per dire agli altri le cose che non dobbiamo dire ok va bene perché c'è un motorino comunque questa tizia è ancora bloccata qui non può essere qualche problema non riesco più a parlare non so c'è qualche problema però io con Bito siamo del poverini e mentre stiamo andando a pool party io vi dico grazie per aver guardato questo video vi ringrazio molto se mi seguite se è attivato la campanellina per ricevere le mie notifiche e se mettete mi piace a questo e gli altri video vi ringrazierò tantissimo facendo lo speciale dei 20 iscritti e ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao